Le prossime elezioni comunali aretine saranno una tappa decisiva per la crescita della città, mortificata da anni di sfide perdute. Così il Partito Liberale Italiano si avvicina all'appuntamento con le urne, dove si presenterà a sostegno della lista Alleanza per Arezzo, che già unisce Arezzo Domani e Fratelli d'Italia. Il PLI mira dunque ad entrare nel prossimo consiglio comunale aretino, a vestirne la casacca Sara Luigi Luccherini, capogruppo uscente della lista Progetto per Arezzo. Nonostante gli enormi solleciti che io ricevo quotidianamente di ritornare a presentarmi come sindaco d'Arezzo, io ho detto no, basta, a una certa età, uno deve fare il passo indietro. Ma naturalmente sono estremamente soddisfatto di pensare che finalmente questa parola si ricompone attraverso la realizzazione pratica di un movimento, di un partito. Al fianco di Luccherini, Silvia Chiassai, segretario del PLI per le province di Siena ed Arezzo. Quattro punti fondamentali del programma condivisi con Alleanza per Arezzo. In primis l'opposizione alla riforma sanitaria regionale firmata da Enrico Rossi. I liberali confermano così la propria adesione al Comitato Sanità Arezzo per esprimere il piano di senso alla legge 28 2015. Pensiamo che sia una riorganizzazione che non va assolutamente a vantaggio di noi cittadini e della nostra salute. Quindi ci opporremo sicuramente, se sarà possibile, anche attraverso un referendum a questa legge. L'altro punto fondamentale è il sociale. Crediamo che le famiglie, le giovani famiglie che mettono su figli abbiano bisogno di un aiuto, quindi cercare di venire in conto soprattutto per quanto riguarda la spesa economica degli asili e della scuola materna. L'altro è quello di dare un risrancio, un aiuto all'artigianato, ai commercianti e quindi c'è possibilità attraverso una legge di dare delle agevolazioni per quanto riguarda l'Imo e l'Atari. E poi un occhio particolare alle imprese, anche all'impresa Eorafe specifico, anche attraverso un evento che abbiamo organizzato come Partito Liberale, questo venerdì il 27, presso la Borsa Merci, dove sarà presente il professor Edward Ludwak e il presidente della Camera di Commercio Italo-Libeca per parlare di imprese e d'essere, quindi tutte le problematiche che oggi purtroppo con la Libia, con i Dazi, vanno a interferire nelle possibilità delle imprese, soprattutto quelle ora, che in Arezzo sono una realtà fondamentale.